Buongiorno mille, oggi è mattedì, è la seconda giornata della Amatori Latini qui a Blackpool. Sinceramente ho grosse difficoltà a fare qualche video adesso perché ieri abbiamo fatto una litiga fuori di normale con quella della sicurezza e volevano confiscare sia l'iPhone che l'iPad. Io faccio il mio mail oggi e ti tengo informato e più tardi ti faccio vedere qualcosa con Ferdi e Giulia. Buona giornata!